Sono qui a Peveragno, sono membro della giuria del Festival Internazionale Amicorti e sono molto contenta perché io ho conosciuto Peveragno anche da un altro posto come giornalista e conduttrice di una trasmissione con molti milioni di spettatori e allora sono molto contenta che ho visto il simbolo di Peveragno la fragola così è stato creato anche con il mio aiuto il nuovo logo di questo Festival Amicorti che è praticamente una fragola con la pellicola cinematografica e sono molto contenta perché ho una nuova possibilità di far parte di questa giuria di conoscere i cortometraggi che mi sono innamorata veramente di loro e anche personalità da tutto il mondo che sono molto esperti più di me però anche il cinema è estetica allora ognuno può dire la propria opinione che veniamo qua in giugno così godiamo la cucina della zona vedremo le bellezze e anche faremo una bella cosa che così sarà Peveragno più famoso per i turisti e sono molto contenta